Alzare la pena! E mi smarca! E le spiegate! E mi in posizione! Il comandante ha lasciato il timone! E mi smarca! E mi smarca! E mi smarca! E mi smarca! Grazie a tutti Grazie 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 a tutti. Terra, non è come mi aspettavo. 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 E' in posizione! Massima velocità! Impossibile! Allora... Allora... Giù i remi! Mette di forza! Andiamo! Il comandante ha lasciato il timone, siete liberi! Grazie per la visione!